Allahu akbar! Tripoli dunque quasi completamente in mano ai ribelli. Su quello che sta succedendo in queste ore abbiamo sentito il nostro inviato Mustafa Bag al telefono dalla capitale libica. La battaglia è ancora in corso nel centro della città e in periferia. I ribelli sono molto motivati perché ieri sono entrati nel centro di Tripoli. Ma poi quando la piazza verde si è svuotata intorno alle 5 del mattino gli scontri sono ricominciati. In particolare ci sono stati forti bombardamenti tra le 6 e le 8 di stamani. Ora la situazione è complicata. Ho parlato con un comandante ribelle. Loro dicono che Gheddafi è andato via e che stanno combattendo con i mercenari che Gheddafi ha riunito da diverse parti dell'Africa. Ma io non sono in grado di confermare esattamente che Gheddafi abbia lasciato Tripoli o la Libia. Sembra che la possibilità che Gheddafi ritorni sia quasi pari a zero, visto che ha perso completamente il potere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.